Con 68,2 punti su 100, l'Italia si colloca il tredicesimo posto nell'Unione Europea nell'Indice sull'uguaglianza di genere 2023, con due punti in meno rispetto all'Unione nel suo insieme. Le diseguaglianze di genere sono molto evidenti nel dominio del lavoro, in cui dal 2010 il nostro Paese occupa costantemente l'ultimo posto fra tutti i 27 Stati membri. Anche per questo, fra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, c'è la riduzione del divario di genere nell'ambito del mercato del lavoro. 65 è il punteggio medio registrato dall'Italia in questo dominio, che si articola in due sottodomini, quello della partecipazione e quello della segregazione, flessibilità, qualità del lavoro e prospettive di carriera. Quanto ai tessi di occupazione a tempo pieno e alla durata della vita lavorativa, la partecipazione, il punteggio dell'Italia resta basso, per la maggiore incidenza che ha il lavoro a tempo parziale fra le donne. Quanto alla varietà dei settori lavorativi in cui sono presenti le donne e alla qualità, flessibilità e prospettive di carriera, l'Italia risulta ancora fortemente squilibrata, sia per una maggiore presenza delle donne rispetto agli uomini nel settore dell'istruzione, della sanità e delle attività di assistenza sociale considerate nel nostro Paese più adatte alle donne, sia nell'organizzazione dell'orario di lavoro flessibile e nelle prospettive di carriera e di continuità. A questi divari legati diversi fattori, tra questi gli squilibri dell'ambito domestico, nella cura dei figli e nello svolgimento delle faccende domestiche, gli stereotipi che spingono le ragazze a scegliere percorsi scolastici che le escludono da molte professioni, ad esempio di tipo scientifico e tecnologico, il Piano Nazionale di Represa e Resilienza ha inteso porre un freno attraverso misure e investimenti che vogliono favorire direttamente o indirettamente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro salariato e ad attenuare abitudini, stereotipi, culture e norme che ostacolano il raggiungimento di una parità di genere anche negli ambiti scolastico e domestico, oltre che lavorativo. Sono misure rivolte ad aumentare il tasso di partecipazione femminile al lavoro, ad accrescere il tasso di occupazione delle madri attraverso il potenziamento di servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro, come i servizi educativi per l'infanzia. Ci sono misure volte a ridurre il carico di lavoro non attribuito di cura e a mettere a disposizione delle famiglie infrastrutture più efficienti. Ci sono misure volte ad aumentare il numero di laureate nell'area STEM, ma anche misure destinate a creare condizioni di maggiore sicurezza economica ed emotiva alle donne capofamiglia, attraverso l'assegnazione di case popolari e i servizi di promozione della salute e dell'assistenza socio-sanitaria all'interno delle famiglie. Due, le misure destinate direttamente ad incrementare la presenza delle donne nel mercato del lavoro e la qualità del lavoro femminile all'interno delle aziende. L'una intende valorizzare l'imprenditorialità femminile con incentivi mirati alle neo o futuro imprenditrici attraverso il Fondo Impresa Donna. L'altra ha introdotto un sistema nazionale di certificazione della parità di genere all'interno delle aziende per rendere le imprese ad adottare strategie tese a ridurre le differenze di genere in azienda. Grazie. 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 Grazie.